ciao a tutti comunicazione importantissima il 25 marzo alle 20 e 30 partecipa anche tu all'ora della terra e che è il più grande evento globale del wwf e praticamente consiste nel fatto che in tutto il mondo si spegneranno simbolicamente le luci per sostenere la lotta al cambiamento climatico quindi si spegneranno monumenti città case tutto proprio tutto milioni e milioni di persone si uniranno per testimoniare il il loro impegno per un futuro migliore un futuro più sostenibile è molto importante quindi spegni le luci e accendi il cambiamento insieme è possibile tipo così no aspetta aspetta aderisci e scopri come partecipare su wwf.it ciao